Il Papa oggi si è dimostrato dispiaciuto soprattutto per dei documenti riservati che hanno stati trafugati dal Vaticano, ma c'è qualcosa di segreto nella casa del Signore? O forse solo perché erano inerenti a saune, massaggi eccetera che facevano i monsignori in Vaticano? Come si dice tutti possono sbagliare a questo mondo, l'importante è rimediare. Rimediare togliendo ai monsignori e chi come loro fanno la bella vita nel nome del Signore prima che la notte scenda definitivamente, mai sul creatore, ma solo sulla Chiesa o pseudotale perché se la Chiesa non può più essere luce non è più niente.